amici di unibet un saluto da Gianluca Rossi è davvero tempo di flop cup per tutta la prima fase dei mondiali la fase a girone l'obiettivo è di sbagliare tutti i pronostici per vincere ricchi premi e cotion tre partite tre suggerimenti di segno sbagliato faccio venerdì sabato e domenica per questo weekend per quanto riguarda il venerdice marocco iran sbagliando marocco iran vi dico due per quanto riguarda invece il sabato la partita successiva è francia australia francia australia anche qua vi devo dare un segno sbagliato e il segno sbagliato naturalmente per me è x ed infine per quanto riguarda domenica germania messico i campioni del mondo contro il messico anche qui per darvi punteggio nella flop cup devo sbagliare il pronostico germania messico vi dico due un saluto amici di unibet da Gianluca Rossi e mi raccomando è flop cup sempre flop cup ciao ciao